il fo ad umbrela nel west del cusio questo è il nome di questa bellissima gita che vado a presentare oggi una gita vi dico subito di medio livello 600 circa saranno i metri di sviluppo e più o meno 15 i chilometri che andremo a fare un'escursione che si svolgerà appunto nel west del cusio il cusio ricordo sempre quando mari mi sentite dire il vco e non è altro che il verbano intendo il lago maggiore il cusio intendo tutta la zona che qui alle mie spalle la zona del lago d'orta per intenderci e poi l'ossola che è praticamente tutta la parte che da a fondo toce in su verso domodossola perciò il vco in questo momento sono nel west del cusio cosa vuol dire sono nella parte ovest la parte che confina praticamente con la valsesia e questo è un giro completamente all'interno di immensi boschi quindi il profilo dell'escursionista che decide di aderire a questa escursione proprio colui con lei che vuole staccare un attimino vuole silenzio vuole pace perché qui nulla ci sarà altro che il rumore dei nostri passi magari troveremo qualche escursionista ma è veramente raro trovare persone su questi sentieri ma soprattutto andremo a rendere omaggio a una pianta fantastica che è questo grande faggio il fo proprio viene chiamato così il faggio in dialetto qui dai locali e ad ombrella perché ha questa forma ad ombrello che la si riconosce soprattutto in estate quando questo faggio è fogliato quando invece perde le foglie assomiglia molto a un grande bonsai quindi è un faggio veramente incredibile con tutti questi rami contorti comunque io adesso vi faccio vedere innanzitutto da dove vi sto parlando qui faremo il nostro pranzo e ci arriveremo dopo circa tre ore come vedete è un alpeggio molto molto soleggiato qui faremo il nostro pranzo laggiù si intravede omegna il lago d'orta là di fronte il motarone in questo momento abbastanza innevato insomma la cima un po di neve c'è insomma le viste sicuramente non sono la parte più importante di questo di questo giro sono ottime viste per l'amor di dio però non immaginate appunto la vetta a 360 gradi dove l'occhio può spaziare e vedere innumerevoli cime questo è un giro proprio adatto a coloro che appunto vogliono approfondire la conoscenza di questo di questa parte del territorio ma soprattutto che amano emozionarsi di fronte appunto in questo caso a una pianta meravigliosa adesso vi porto al fo d'umbrella e ci siamo quasi e vedete che è indicato lì proprio sul faggio c'è la scritta faggio il fo d'umbrella eccolo lì andiamo a scovarlo ma che meraviglia guardate in versione estiva io adesso ve lo farò vedere in versione invernale guardate anche l'arrivo che bello che è questa faggeta governata a fustaia sapientemente governata guardate com'è pulita ed eccolo lì davanti a noi guardate che bello che è veramente sembra un grande bonsai scusate il gioco di parole ma così sembra una meraviglia inutile dire che durante questa escursione visto che io amo argomentare sulla botanica e il mio albero preferito la mia passione che vi avviene gli anni è andata così a svilupparsi e quella proprio sul faggio dovete prendervi il tempo insomma per ascoltarmi perché comunque io del faggio parlerò questa è una certezza parlerò parlerò in lungo e in largo ma soprattutto così in questo in questo caso saremo qui invece in rigoroso silenzio ad ammirare questa meraviglia guardate non ci sono parole bisogna proprio venire qui vederlo il fatto che sia appunto così contorto lo rende unico assomiglia a un grande nocciolo contorto se andate a vedere dei video io ne ho uno anche sul mio canale del portale del verde proprio sul nocciolo contorto a questa forma e questi tipi di rami questo invece è un faggio un faggio secolare difficile anche qui dare una stima ma sicuramente si parla di almeno 300 anni di vita ma sicuramente sono anche di più bene che dire a questo punto non vi rimane altro che scrivermi i numeri di whatsapp che vedete qui sotto whatsapp è lo strumento che preferisco per tenermi contatto con voi intanto io vi aspetto qui al Fodumbrella ciao ciao